Benvenuti agli amici di Grosseto Sport in diretta dal centro sportivo di Roselle, seconda giornata del campionato di promozione Girone B, si affrontano il bel vedere Grosseto e l'Armandi Piochi Livorno. Ora un minuto di raccoglimento in ricordo del presidente merito napolitano. Che ha trovato Pulina la deviazione fondamentale e settimo calcio d'angolo ancora per i rossoneri. D'Angelo che chiama lo schema, palla tagliata sul primo palo, tocco e gol di Ciolli. Gol di Ciolli al trentatresimo minuto, la rete del bel vedere con Andrea Ciolli su questo calcio d'angolo. Molto morbido per Faenzi, cross di Veronesi, smanacciata di Grassia, tocco che palla e giunge a D'Angelo e al decimo minuto con un tocco di esterno, palla e bacia il palo e va ad insaccarsi. 2-0 per il bel vedere, il più classico dei gol degli ex del Conte che va in sovrapposizione e Tantone si ripropone all'altra parte. Scambio 1-2 con D'Angelo e volo di Grassia a disinnescare questo tentativo di Guazzini. Tocco di Guazzini per Tantone in aria, contrastato da Pulina. Scambio di tacco, bellissimo il gol del bel vedere di Guazzini al ventunesimo minuto. Bellissimo il tocco di tacco di Tantone per l'inserimento di Guazzini che trova la rete del 3-0 per il bel vedere al ventunesimo minuto. Calcio di rigore per l'Armando Picchi per questo intervento di Fregoli su Barnini. Tocco sbagliato del numero 9, l'arbitro fischia la fine di questo match. Un ringraziamento ai nostri telespettatori e al prossimo appuntamento del bel vedere in casa.